Dora in poi obbedirai a delle regole, meglio che tu non le infranga. Non puoi imprecare, non puoi cantare e non puoi pregare il tuo Dio. Io non ho un Dio. Come puoi dirlo con tanta sicurezza? Non preoccuparti, puoi parlare liberamente. La presenza del male sulla terra prova che non c'è nessun Dio. La presenza del male sulla terra prova che sono in pochi a obbedire alle regole di Allah. Ecco perché è nato il Califato.